Fin quando si parla teoricamente di una donna prete si ha un'idea diciamo astratta, ma quando concretamente si vede l'immagine di una donna prete coi paramenti che compie i gesti sacerdotali e allora si vede come qualcosa di concreto e qualcosa di scontato. Maria Vittoria Longhitano è la prima donna sacerdote italiana, benedice e presiede alle messe di fede vetero-cattolica, confessione cristiana, che non riconosce l'infallibilità del Papa nella parrocchiale di Gesù di Nazareth a Milano. La parroca, come ama definirsi, la 35enne siciliana, ex diacona, è stata ordinata sacerdotessa nella chiesa anglicana All Saints nel centro di Roma. Lei mantiene questo stato civile e laicale, come divide questa missione con il rapporto con il suo marito? Il mio marito è assolutamente sempre stato un mio complice, se posso usare questo termine, è un mio alleato, un mio compagno ed è una persona splendida che mi aiuta a svolgere questo ministero. Un lungo applauso dai presenti ha accolto l'ordinazione della sacerdotessa, che a Milano si è distinta per la sua attenzione ai malati e ai bisognosi ai bambini. Diciamo anche che alle sue celebrazioni partecipano persone, molte persone marginate, non so, posso citare gay piuttosto che lesbiche. Transessuali. Transessuali. Questo è molto d'aiuto. Cito ancora un'altra categoria. Anche i divorziati e i risposati che possono da noi ricevere la comunione, mentre nella chiesa di Roma sono emarginati. Io credo che questo sia molto d'aiuto a noi, perché ci aiuta a crescere. Del resto Gesù non cercava le alleanze col potere, Gesù cercava le alleanze e la relazione con persone che erano emarginate, perseguitate e messe alla berlina da quel sistema di potere. Si identificano più con la chiesa in generale o con lei come persona guida? Questa è una bella domanda. Beh, questo è un rischio. È un rischio, però diciamo che come in una sorta di rapporto, quando si va dallo psicologo, eccetera, prima c'è una sorta di transfert, poi pian piano chiaramente c'è una scissione. Però è un percorso, sì, agli inizi si fidano e si affidano totalmente al Ministro. Ho aperto la strada, è stato un percorso di emozione e paura, detto la Longhitano. Mi sento un'apripista. Senza donne la cattolicità, che vuol dire universitalità, viene mutilata. Cade un pezzo di universalità perché l'altra metà del mondo non partecipa alla missione di Cristo. Lei non ha figli? Non ancora. Prossimamente. Auguri. Grazie.